Referendum costituzionale sul Senato federale. Da ieri è più vicina la data della consultazione popolare. Un referendum che si terrà con tutta probabilità ad ottobre. E nella stessa data i Veneti potrebbero scegliere per l'autonomia in un referendum peraltro approvato dalla Corte Costituzionale. Una coincidenza segnalata qualche giorno fa ai nostri microfoni dalla parlamentare PD Simonetta Rubinato, che aveva lanciato la sfida al Presidente del Veneto perché si faccia promotore dell'iniziativa. E oggi, pronta, è arrivata la risposta. Beh, potrebbe essere una bella partita, ma è esattamente uno dei temi sui quali stiamo lavorando. E' altrettanto vero che stiamo lavorando anche al quesito e anche a tutte le modalità. Perché poi l'On. Rubinato è assolutamente una cripto-autonomista, ma i suoi compari di governo non la pensano proprio così.